La conferma è arrivata. L'oppositore russo Alexei Navalny è stato avvelenato con un agente nervino di tipo Novichok che Mosca aveva immediatamente contestato. Dopo le analisi dei laboratori specializzati tedeschi, francesi e svedesi, anche l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche ha confermato la presenza della sostanza, vietata dall'organizzazione nel 2019, nei campioni di sangue e urine di Navalny. Novichok è un gruppo particolarmente pericoloso di agenti nervini, già utilizzati nel 2018 per avvelenare l'ex spia Sergei Skripal e sua figlia Julia a Solsbury, in Inghilterra. Il Cremlino aveva negato ogni responsabilità e la vicenda era stata al centro di una crisi diplomatica. Attraverso il portavoce della cancelliera Angela Merkel, Stefan Seibert, la Germania rinnova adesso la richiesta alla Russia di chiarire l'accaduto. Ogni uso di armi chimiche, si legge nella nota dell'Opac, è un precedente grave che non può restare senza conseguenze. Navalny ha lasciato l'ospedale il 23 settembre scorso.